Sarate non ha giocato nemmeno un minuto contro la Fiorentina, oggi sicuramente avrà grande voglia di riscatto il cross nel mezzo, Floccari, Floccari 1-0 ha segnato la Lazio dopo 7 minuti con Sergio Floccari da valutare la posizione di Floccari che ha avuto forza, tenacia, e qui è fuori gioco e si è leggermente oltre, c'è la spalla, non solo il braccio ma forse anche la testa